Mi sono amiciato al CrossFit perché volevo uscire dalla routine del sollevamento pesi, nel senso che poi diventava troppo monotona come disciplina e ho visto che il CrossFit è una disciplina molto, molto varia e ampia. Abbracciava tanti rami e questo mi ha coinvolto. Ho trovato tanta difficoltà nelle multi-rap, sentivo che i miei muscoli si riempivano subito di acido lattico e quindi mi limitava proprio il movimento. Mi sentivo rigidissimo, poi pian piano, con molta pazienza e tanto tempo, inizia a prenderci un po' l'abitudine. Mi piacciono tantissimo i push e jerk. Lo snatch sì, ma... L'esercizio che mi piace di meno è il deadlift. Sì. Perché ho riscontrato che nelle multi-rap patisco il deadlift, invece in una rap max sono molto più forte. Ovvio che non ho i ritmi... Però ho patito tanto il deadlift. Quello che mi è piaciuto di più è appunto la community. E comunque... Perché arrivando all'assolamento pesi è uno sport altamente individuale. Qui, ok, è individuale, però, come posso dire, sei molto più coinvolto, c'è più community. Cioè, il solamento pesi, quindi pesistica o waylifting, devi avere veramente l'attitudine al sacrificio e devi pensare solo e esclusivamente al bilanciere. Invece nel crossfit comunque in qualche modo riesci a svagarti. È pesante, però riesci a svagarti. Eh, ho fatto team crash. È andato bene io, sì, sì, sì. Però... Rischiavo un infarto a New World, però va bene. Anche il Brixiatro Down con la Xenios abbiamo fatto un team. Mi giocato a tipo, mi alzo, vengo a lavorare. Quindi lezioni mattutine. Poi, se ho tempo, mi alleno o al mattino o al pomeriggio, in base comunque alle ore da fare. Comunque, dalle otto fino alle nove sto qui al box. Questo è il mio mondo, me lo sono ricercato e mi piace questa vita. La programmazione, la Waylifting Team Competitor Program, è una programmazione che ho ideato tre, quattro anni fa, che ancora non esistevano programmazioni di waylifting in Italia. Mi è venuta questa idea di... Perché non proponiamo un attimo un po' un programma di waylifting? Eh, devo dire che funziona. Comunque ho dei ragazzini che careggiano a livello italiano. Sta andando benissimo, credo. Sì, riesci a trovare, diciamo, una... Una tras... Scusate. Un transfer. Diciamo nel crossfit. Comunque metto tanti elementi, sembra brutto dirlo, ma anche un po' cardio, nel senso che vado oltre le cinque, se l'è... La ginnastica... All'inizio arrancavamo un pochettino. Comunque, capendo poi alcuni determinati passaggi, riesco a fare cinque mascole up unbroken. Cioè, è impensabile per una persona di 90 kg come me, comunque arrivando da un mondo dove vedo... Ho visto solo un pezzo di legno e... Spero enorme. Comunque, credo che tra tre anni mi appassionerò ancora di più al mondo del crossfit, perché... Anche a livello agonistico nel solamente pesi credo di essere arrivato un po' al culmine della mia carriera. Per essere a alti livelli c'è bisogno di tanto sacrificio. Allora, ho un conto in sospeso con Roberto Allievi, perché ci siamo sfidati in una... In un contest di strongman e quindi ho ancora lì lì. Ho ancora lì lì. Quindi mi sa che ci vedremo alla lift and drop, Roby. Saluto Omar per comunque questo format che ha creato, credo che funzionerà tantissimo. I ragazzi di CrossFit Black Fox che mi seguono tutti i giorni, mi sostengono. E niente. Grazie a tutti, ci vediamo lì.